La Regione Campania ha emanato il decreto dirigenziale numero 36 del 4 febbraio 2022 con oggetto approvazione e pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Campania dell'avviso pubblico e dei relativi allegati per la richiesta di contributi a favore dei soggetti giuridici pubblici e privati, proprietari di biblioteche, di ente locale e di interesse locale presenti sul territorio regionale. L'amministrazione comunale di Agropoli da sempre impegnata nella promozione e valorizzazione della cultura e delle tradizioni del territorio in tutte le sue espressioni, con una particolare attenzione alle iniziative rivolte ai giovani, ha ritenuto opportuno partecipare al suo indicato avviso candidando il progetto denominato Io scrivo, lettura e scrittura creativa in biblioteca. Quest'ultimo ha come obiettivo realizzare diverse attività, il club del libro, incontro con l'autore, laboratorio di favole, il concorso Io scrivo. Il quadro economico complessivo di spese è pari a 5.000 euro, sarà completamente a carico della regione Campania e non comporterà alcuna spesa per lente. La biblioteca civica della città agropolese, si legge nella delibera, è stata istituita per favorire la crescita culturale individuale e collettiva e riconoscere il diritto dei cittadini all'informazione e alla documentazione, con lo scopo di promuovere lo sviluppo della personalità e la consapevole partecipazione alla vita associata e la stessa si costituisce come struttura polivalente che pone a disposizione della collettività gli strumenti necessari per la creazione da parte dei cittadini delle attività culturali, promuovendo la lettura in tutte le forme.